un esempio di racconto comico Gianni Rodari il paese senza punta Giovannino per di giorno era un grande viaggiatore viaggia e viaggia una volta capitò in un paese dove gli spigoli delle case erano rotondi e i tetti non finivano a punta ma con una gobba dolcissima lungo la strada correva una siepe di rose e a Giovannino venne lì per lì l'idea di infilarsene una all'occhiello mentre coglieva la rosa faceva molta attenzione a non pungersi con le spine ma si accorse subito che le spine non pungevano mica non avevano punta e parevano di gomma e facevano il solletico alla mano guarda guarda disse Giovannino ad alta voce di dietro la siepe si affacciò una guardia municipale sorridendo non lo sapeva che è vietato cogliere le rose? mi dispiace non ci ho pensato allora pagherà soltanto mezza multa disse la guardia che con quel sorriso avrebbe potuto benissimo essere l'omino di burro che portava Pinocchio al paese dei Balocchi Giovannino osservò che la guardia scriveva la multa con una matita senza punta e gli scappò da dire scusi mi fa vedere la sua sciabola volentieri disse la guardia e naturalmente nemmeno la sciabola aveva la punta ma che paese è questo? domandò Giovannino il paese senza punta rispose la guardia con tanta gentilezza che le sue parole si dovrebbero scrivere tutte con la lettera maiuscola e per i chiodi come fate? li abbiamo aboliti da un pezzo facciamo tutto con la colla e adesso per favore mi dia due schiaffi Giovannino spalancò la bocca come se dovesse inghiottire una torta intera per carità non voglio mica finire in prigione per oltraggio a un pubblico ufficiale i due schiaffi semmai dovrei riceverli non darli ma qui si usa così spiega gentilmente la guardia per una multa intera quattro schiaffi per mezza multa due soli alla guardia alla guardia ma è ingiusto è terribile certo che è ingiusto certo che è terribile disse la guardia la cosa è tanto odiosa che la gente per non essere costretta a schiaffeggiare dei poveretti senza colpa si guarda bene dal fare niente contro la legge su mi dia quei due schiaffi e un'altra volta stia più attento ma io non le voglio dare nemmeno un buffetto sulla guancia le farò una carezza invece quando è così concluse la guardia dovrò riaccompagnarla alla frontiera e Giovannino umiliatissimo fu costretto ad abbandonare il paese senza punta ma ancora oggi sogna di poterci tornare per viverci nel più gentile dei mondi in una bella casetta con tetto senza punta